Buongiorno e benvenuti da Borsare Strumenti Musicali. Oggi sono veramente contento perché insieme a Gabriele e Nico che mi è venuto a trovare un volto molto conosciuto nell'ambito dei video della Casio perché lui è sicuramente la persona in Italia più esperta di questi prodotti, mi è venuto per far conoscere questo nuovo prodotto che si chiama CTS 400 che è un prodotto veramente fantastico. Poi adesso Gabriele se la presenterà perché io chiaramente l'ho appena vista in questo momento e poi dopo scopriremo le funzionalità. Beh Simone grazie delle tue parole, ho visto che qui hai già visto e provato la CTS 1, assolutamente, questa sarà la sua sorella maggiore, diciamo che avremo un cuore CTX preso dalla serie CTX con il generatore AIX che è dentro entrambi i prodotti ma con la struttura, diciamo la forma delle Casioton, quindi rispetto alle CTX abbiamo una forma più compatta e più leggera, quindi l'ideale per chi deve trasportare questi strumenti. Rispetto alla CTS abbiamo in più, abbiamo innanzitutto un display, poi abbiamo un maggior numero di timbri e soprattutto il discorso degli accompagnamenti, abbiamo degli accompagnamenti già integrati e la possibilità di inserire anche una chiavetta con dei file MIDI e quindi suonare anche i file MIDI perché questa tastiera è compatibile con lo standard General MIDI. Poi opzionale, l'abbiamo già collegato qua prima per fare delle prove, abbiamo questo che serve sia per la CTS 1 che per la CTS 400 ed è un adattatore che si può comprare a parte e serve per trasmettere e ricevere senza fili sia l'audio che il MIDI con una latenza veramente molto bassa. Veramente interessante, poi io già quando avevo fatto vedere che ho fatto il video della CTS 1 appena arrivata ero subito rimasto molto colpito dalla qualità dei timbri e dalla qualità della tastiera perché rispetto diciamo alle solite tastiere, anche se non si può definire una tastiera pesata, però mi dà veramente una buona sensazione sotto le dita, quindi sono contento che diciamo ci sarà un'evoluzione con delle funzioni ancora più ricche. Dici bene, la differenza principale che si sente rispetto alle Casioton, la CTS 100-200-300 è appunto un maggiore controllo del suono attraverso la dinamica dello strumento e soprattutto anche la qualità dei timbri e come escono dalle casse che sono di una serie superiore rispetto a quella delle CTS 100-200-300. Perfetto, io allora Gabriele direi facsela sentire, illustracela un pochettino in modo che i nostri amici da casa si possano fare una loro idea, ok? Perfetto, facciamo sentire un paio di cose, grazie. Bene, bene. Perfetto, facciamo sentire un paio di cose, grazie a tutti i nostri amici, grazie a tutti i nostri amici. Grazie a tutti i nostri amici.